Si è tenuta a Roma presso il punto nascita dell'ospedale San Camillo, la consegna alle famiglie di un kit di 12 box contenenti giochi e attività per bambini da 0 a 2 anni, elaborati dalla fondazione Montessori per accompagnare le famiglie con bambini attraverso strumenti e linee guida utili al loro sviluppo. L'evento si è svolto nell'ambito del progetto Best Start promosso dal forum delle associazioni familiari in collaborazione con l'assessorato all'inclusione sociale e servizi alla persona della regione Lazio. Un segnale forte, importante che vogliamo dare a tutte le famiglie, alle giovani coppie perché sappiamo che abbiamo un inverno demografico che dobbiamo assolutamente debellare, investire nelle famiglie, investire nella natalità è fondamentale per il futuro del nostro paese. Questo è un piccolo segnale, però un segnale importante anche dal punto di vista psicologico perché le famiglie del Lazio devono comprendere che le istituzioni ci sono, che la regione Lazio c'è e quindi abbiamo deciso di fare questa iniziativa, di regalare 1500 kit ai primi 1500 nati nel Lazio. È un'iniziativa che abbiamo deciso con il presidente della giunta, Francesco Rocca, insieme appunto al forum famiglie. In questo reparto abbiamo intenzione di investire, vogliamo migliorare il comfort e quando abbiamo sentito che la regione voleva investire insieme al forum famiglie con questi kit di giocattoli o di giochi che sono essenziali per uno sviluppo adeguatissimo, tanto più oggi che parliamo di intelligenza artificiale, ecco prendiamoci cura dell'intelligenza naturale dei nostri bambini ma miglioriamo anche il comfort, questo lo dico a me, lo dirò al presidente della regione, sono sicuro che troveremo una porta aperta perché anche il comfort alberghiero delle mamme deve essere dello stesso livello. Sì, è un kit che ha un grande valore, rappresenta intanto una vicinanza delle istituzioni pubbliche, dell'associazionismo familiare alle famiglie riconoscendo che sono un valore, un patrimonio per il paese, per questa regione e dall'altro dà degli strumenti a genitori e bambini per giocare insieme perché questi giochi non sono giochi da giocare in uno splendido isolamento ma nella relazione tra padre, madre e figlio e questa è una cosa essenziale soprattutto nei primi mille giorni di vita del bambino. Grazie